Andiamo a piedi, c'è una bella passeggiata, tanto oggi non fa caldo. Dovamo fare questi ospedali spendendo 20 milioni di euro perché devono essere pronti, non sono collaudati, non possono chiaramente ospitare malati, hanno una situazione instabile, uno spreco di risorse, un attacco alla salute dei cittadini, un vero grande scandalo italiano. Grazie a voi, grazie a Marco Saldini, grazie alla Lega. Grazie a Stefano Caldoro, un grande applauso, facciamo un applauso a Stefano Caldoro. Grazie a tutti.